buonasera buonasera a tutti che ci seguite su Libri TV questa sera al cinque febbraio duemilaventuno nuovo appuntamento con creare il futuro prosinone al centro eh con Pierpaolo Segneri presidente dell'associazione prosinone al centro regista e scrittore e ospite questa sera abbiamo eh Marco Toti eh che è un dirigente del ministero della giustizia presso l'ufficio per la governanza economica finanziaria organizzativa ma è anche direttore della Caritas di Cesana di Frosinone e parliamo appunto dell'associazione è anche ovviamente membro del eh comitato scientifico dell'associazione di Frosinone al centro è anche iscritto eh è un simil servant adesso è un po' una cosa che va molto di moda questa parola ma insomma obiettivamente è un simil servant in quanto appunto è anche nell'istituzione ministero della giustizia eh parliamo di eh Frosinone e dell'attività dell'associazione prosinone al centro che è un'associazione culturale eh e è anche ovviamente di quell'attività della Caritas di Cesana di Frosinone che poi non è soltanto riguardo riguarda solo questa città Frosinone ma ha creato anche una sorta di rete di solidarietà anche con altri eh diciamo centri eh di mitovi una rete che forse abbiamo detto anche in altre associazioni e in altre trasmissioni manca un po' da un punto di vista organizzativo eh diciamo eh tra i vari centri intorno a Frosinone io do subito la parola a Pierpaolo terrò il tempo cinque minuti ciascuno cercando di essere rapidi a Pierpaolo la parola grazie Gianni eh sono molto contento e lo ringrazio davvero eh Marco Toti che oltre ad essere riscritto all'associazione culturale Frosinone al centro ha accettato di far parte del comitato scientifico cioè di questo gruppo eh di undici persone eh che vivono nel Frusinate e che hanno a cuore le sorti del nostro territorio e che insomma stanno mettendo insieme alcune riflessioni utili al dibattito pubblico eh che riguardano anzitutto le persone gli individui e la vita eh nel nella nostra comunità che non è solo quella cittadina di Frosinone ma di tutta l'area abbiamo parlato addirittura di area intercomunale no? E è importante perché eh insomma l'hai presentato benissimo eh Marco Todi eh oltre eh diciamo a fare queste cose è anche una persona che ha un uno spessore nel suo essere ecco oltre a fare l'essere che è importante fondamentale e eh si unisce insieme agli altri del gruppo del comitato scientifico dell'associazione voglio ricordare alcuni nomi no? Come il professor Marcello Carlino eh che abbiamo già incontrato in un'altra occasione qui nel programma di Liberi.tv mh l'ex senatrice della Repubblica Maria Spirabotte c'è il dottor Mino De Santis che è dirigente è stato dirigente superiore della Polizia di Stato oggi a riposo eh c'è un imprenditore poi vi vi dirò insomma in altre occasioni un'importante scienziata astronoma la dottoressa Sara Turiziani Daniele Mignardi esperto di comunicazione tra i più accreditati in Italia tutte persone eh del Frusinate e che eh mi possono ehm permettere di dire che eh la sfida che ho lanciato alla classe politica alla classe dirigente in generale del nostro territorio della sociaria ehm mi trova in ottima compagnia una sfida culturale perché forse non si è capito e lo voglio ribadire per me il punto centrale per dare una svolta alla nostra realtà cittadina e territoriale è affrontare il tema di un vuoto di politica che si fa un vuoto culturale che si è trasformato in un vuoto esistenziale forse anche dovuto al covid e se non affrontiamo questo aspetto che riguarda la mentalità cioè l'associazione se non al centro dice dobbiamo dare una svolta e si crea una svolta soltanto se abbiamo la capacità di mh acquisire una mentalità in grado di affrontare le nuove sfide consapevolezza conoscenza comprensione dialogo ehm possibilità di eh interagire e di esprimersi eh rapporti umani relazioni una rete eh anche di di associazioni di di volontariato no profit anche di persone anche professionisti ho parlato un'altra volta della borghesia no frusinate che se si eh rendesse conto del ruolo sociale che può svolgere proprio perché ci sono delle aziende o delle professionalità molto importanti che hanno avuto soddisfazione nella vita anche a livello economico e che possono dare molto a questo territorio e che invece vedo un po' spente vedo anche tanti ragazzi tanti studenti tantissimi giovani che avrebbero le energie per dare una svolta alla nostra città e che invece sperano forse al massimo di andare via da Frosinone o hanno gli occhi un po' spenti immersi in una solitudine che io ho visto nei loro sguardi a me questa cosa non sta bene ho lasciato questa sfida spero che insieme agli altri dell'associazione Frosinone al centro si possa raccogliere la risposta di chi oggi eh a livello ehm non soltanto politico ma dirigenziale direi a nella nostra città nel nostro territorio nella nostra provincia ha delle responsabilità e che voglia contribuire a questo dialogo a questa discussione a questo ascolto a questa proposta perché la cultura non è semplicemente quella dei libri il teatro eccetera la cultura è il modo con cui noi vediamo e affrontiamo la vita e ehm l'associazione culturale Frosinone al centro ehm ha proposto una visione io vedo tanti punti di vista ma l'unica visione che leggo oggi in provincia di Frosinone comunque a Frosinone città è quella dell'associazione Frosinone al centro cioè Frosinone capitale europea della cultura è una visione e questo significa tante cose non soltanto dal punto di vista prettamente culturale ma dal punto di vista esistenziale quindi cultura è politica politica è socialità è socievolezza è incontro è lungimiranza è non è amministrazione perché se fosse amministrazione uno farebbe il concorso per fare funzionario comunale per fare il dirigente comunale no la politica non è semplicemente amministrazione e non può essere potere fino a se stesso potere per il potere serve una classe dirigente politica di qualità preparata competente questa è la sfida che abbiamo lanciato aspettiamo risposte e siamo pronti al dialogo ringrazio di questa opportunità di confronto con Pierpaolo su questi temi che riguardano la città di Frosinone nel contesto più ampio del territorio Frosinate e e proprio questo credo deve essere un elemento di di forte riflessione eh io vivo da tanti anni nella realtà sociale di Frosinone eh nell'esperienza che vivo da volontario nella carica diocesana e prima ancora in altre esperienze simili eh il nostro contesto territoriale mh è ha una caratteristica storica o culturale di forti legami familiari ma di deboli legami sociali di impegno civico eh di associazionismo eh perché tradizionalmente nel nostro territorio la dimensione familiare è stata sempre una dimensione eh quasi totalizzante dell'esperienza delle delle persone eh poi aggiungiamo anche che eh la stessa struttura fisica del territorio con un insediamento anche molto sparso guardiamo ad esempio altre zone del nostro paese dove invece le campagne sono pressoché disabitate e la popolazione è tutta concentrata nei centri urbani piccoli o grandi che siano o nelle immediate vicinanze nei quartieri più nuovi e il nostro territorio invece è stato sempre caratterizzato da un insediamento molto diffuso è una campagna urbanizzata in qualche modo se guardiamo dall'alto eh io a volte mi diverto a guardare dall'alto di Veroli che è il punto un po' più alto vicino Frosinone tutta la la zona di Frosinone si vede questo insediamento che eh è cresciuto nel tempo ma a fianco alle case vecchie di una volta si sono costruite le case nuove se non i palazzi ora queste due caratteristiche secondo me di eh territorio eh un po' sparpagliato che ha vissuto poco la dimensione urbana del vivere e quindi che si è rinchiuso molto una dimensione familiare ha avuto ed ha delle caratteristiche un po' di debolezza del legame sociale per cui eh il rapporto privilegiato è sempre quello di uno a uno piuttosto che un rapporto di molti di gruppi eh la realtà associativa di Frosinone non è una delle realtà più sviluppate che si trova in giro per l'Italia spesso si fa fatica la stessa ad esempio esperienza eh cooperativa che ho un po' conosciuto nel tempo di fatto non ha mai quasi preso piede nel nostro territorio si è sfruttato lo strumento giuridico della cooperazione ma non perché ci fosse uno spirito cooperativo che poi è un'evoluzione più recente dello spirito associativo dello spirito di impegno civico eh e credo che eh un futuro della città di Frosinone debba passare necessariamente oggi per una valorizzazione di quelle poche realtà associative che ci sono di quelle realtà che creano convivenza che creano socialità all'interno però di un ridisegno anche urbano del vivere urbano perché eh ogni capologo di provincia ha la piazza la piazza del comune la piazza della cattedrale la piazza come luogo di incontro come luogo di scambio come simbolo supremo un po' della della vita sociale ecco eh anche l'aver concepito nel tempo e questo forse lo rivediamo più nei centri nei eh nei piccoli centri Perentino c'è la piazza a Meroli c'è la piazza ad Alatri c'è la piazza a Frosinone non c'è allo stesso modo come negli altri centri una piazza che più delle altre possa simboleggiare eh questo vivere sociale comune cioè questo mutuo riconoscimento e credo che eh questa iniziativa che che lancia per Paolo di incidere soprattutto sulla dimensione culturale e poi l'habitus delle persone cioè è il modo di vivere la cultura delle persone cultura non è solo l'iniziativa culturale o in particolare è proprio il modo di vivere le persone è un po' un richiamo a far diventare anche Frosinone ovviamente in termini moderni non in termini di rimpianto di esperienze passate ma a far diventare Frosinone un luogo una città insieme di tante persone delle provenienze più diverse che sono sedimentate nel tempo se pensiamo a quante persone sono venute a vivere a Frosinone da altre zone d'Italia oggi anche da altri paesi del mondo quindi Frosinone è una vocazione di eh luogo centrale nel territorio nodo di una rete ampia legata agli altri centri che però devi robustire questa dimensione civica in senso più stretto cioè questo senso di partecipazione questo senso di eh creare una cultura che è scambio continuo di idee di pensiero rispetto al futuro ecco credo che questa sia la vocazione oggi necessaria a Frosinone perché grazie alla sua posizione geografica rispetto al resto della provincia e rispetto magari al territorio circostante Frosinone più più immediato ha proprio questa vocazione di essere sintesi quindi deve essere la città della sintesi della sintesi dei centri vicini ma anche della sintesi dell'incontro tra le persone tra i gruppi tra le famiglie ma in modo più robusto in modo più solido non in modo un po' eh distante quasi quello che si affaccia vede chi c'è vede cosa si fa e poi si ritira nel privato e questo appartiene un po' alla cultura storica che dobbiamo un po' evolvere oggi vai Pietro riprendo il discorso il filo eh proposto da Marco perché eh ovviamente mi trova d'accordo però aggiungerei un aspetto ehm che eh l'associazione si rivolge soprattutto alla politica ehm perché eh la parola politica secondo me ha perso di significato e mh è stata svuotata e invece dobbiamo recuperare il il senso il significato per di politica cioè far capire che cos'è la politica perché spesso confondiamo questa parola con eh il clientelismo con l'occupazione eh magari dei posti delle cariche e delle delle responsabilità e non capiamo invece che la politica la fanno i cittadini e quindi la mia mh diciamo non soltanto personale ma collegiale con tutta l'associazione Frosinone al centro richiesta e di chi ha maggiori responsabilità soprattutto politiche di cogliere questo aspetto del dibattito e della discussione capace di coinvolgere i cittadini e riaccendere in ciascuno quella fiammella che ognuno ha dentro di sé ogni frusinate ha dentro di sé ma che è stata soffocata che è stata spenta che non ha trovato lo stimolo e lo stimolo deve dare la politica politica venne dal dal greco no? La radice è polis cioè città politica è come dice Marco è l'impegno civile e civico che ciascuno eh a livello personale o associativo organizzativo svolge all'interno della propria comunità la gora richiamavano i greci no? La piazza è vero che adesso c'è la gora telematica quindi eh ci sono ovviamente le piazze virtuali ci si incontra sui social eh su le varie anche social non soltanto eh diciamo a livello di Instagram Facebook ma anche Whatsapp eccetera però questo non ha accresciuto i legami umani ma ha cresciuto forse un certo senso di solitudine e questa responsabilità da quello che eh l'analisi che abbiamo fatto nell'associazione maggiormente da parte che ha responsabilità politica che ha messo da parte questo elemento di polis di città quindi eh di unione delle varie realtà cittadine a livello di quartieri a livello di periferie a livello di centro storico tutto sembra separato e diviso tutto sembra spessato così come il tessuto sociale non è una rete ma è frammentato è sfilacciato e questo inevitabilmente si ripercuote sull'esistenza e sul sentire delle persone invece le persone hanno voglia e desiderio anche di sognare anche di essere stimolati di poter esprimere il proprio talento le proprie qualità di essere ascoltati dal sindaco o da eh anche di chi magari fa attività politica all'opposizione vogliono essere parte di un di una rinascita di un percorso di un risveglio e questo risveglio l'associazione Frosino del centro lo vuole rappresentare lo vuole eh portare avanti lo vuole stimolare perché la politica riscopra il significato il senso del dell'essere eh politico non del fare semplicemente che poi diventa amministrazione perciò abbiamo sempre detto prima le persone prima le persone le persone con il loro carattere la loro intelligenza le loro competenze le loro qualità le loro creatività il loro talento ognuno diverso dall'altro ognuno unico e poi rispetto a questo sentire individuale e comune con gli altri a quel punto nascono le idee le proposte e si realizzano attraverso anche i rapporti umani i dibatti i discussioni i dialoghi si realizzano le opere tu non puoi decidere prima eh un che cosa fare e poi chiami le persone a farlo prima stimoli le persone a creare i presupposti della partecipazione della conoscenza della riconoscenza del riconoscimento e poi da quello l'abbiamo visto adesso a livello politico no? Prima hanno chiamato Mario Draghi e mo Mario Draghi vedrà il programma che si deve fare no? Lo stesso varrà per il sindaco il sindaco deve partecipare al programma che vuole presentare alla città perché ne è il rappresentante Massimo lo incarna no? Quindi prima le persone dobbiamo restituire eh forza alle persone che stanno cadendo nella solitudine secondo me eh a Frosinone nella rassegnazione sono scoraggiate sono avvidite e io lo capisco ma vorrei che eh chi ha responsabilità politica e dirigenziale non permettesse questo decadimento questa dissolvenza dal dalla luce al buio io non ci sto voglio che l'associazione Frosinone al centro rilanci una visione capitale europea della cultura chi vuole siamo qui una parola a Marco che deve riattivare l'audio perfetto sì eh ecco questa osservazione che faceva eh Pierpaolo rispetto a questo rinchiudersi un po' in in se stessi io lo vedo anche un po' nei vari quartieri della città la carica da sopra con le parrocchie e e quindi è un po' presente in tutti i vari aspetti della vita sociale in tutte le varie zone e c'è noto sempre questa tendenza ad una rivendicazione di appartenenza più che una città ad una zona ad un quartiere ad un particolare e questo poi a volte si riversa anche nella rappresentanza politica pubblica dove c'è il consigliere di questo quartiere di quell'altro quartiere di quella zona eh bisogna fare un po' un salto di qualità io lo vedo è difficile anche quando io parlo con le cari da starrocchiali far assumere una dimensione eh più cittadina no più unitaria per dire ma se sei della stazione o di Madonna della Nero del campo sportivo del centro storico cosa cambia rispetto ai bisogni alle necessità ai rapporti alle relazioni certo il quartiere ha una vita più stretta una vita più eh di relazione poi il fatto che eh sono quartieri anche abbastanza distanti per cui non si va facilmente a piedi da un quartiere all'altro quindi questo non favorisce anche la lo scambio l'incontro diciamo un esempio se uno pensasse di andare a piedi dalla stazione al centro storico o dalla neve non possiamo certo dire che è molto agevole date le dimensioni della città che è Frosinone che non è molto grande che è una distanza agevole che uno può fare quindi l'incontro ordinario urbano non è favorito anzi è difficoltoso e allora io tendo più al massimo a stare attorno al mio quartiere e e quindi a relazionarmi con quel gruppo di persone che conosco ecco un intervento secondo me per facilitare anche questa dimensione un po' più urbana con dei poli di attrazione dove la gente possa incontrarsi scambiarsi e accedere anche con facilità secondo me questo aiuterebbe anche il vivere sociale di Frosinone che non sarebbe più la somma di zone quartieri o frazioni addirittura fuori dal centro urbano ma diventerebbe più una dimensione unitaria più un tutt'uno dove ogni persona con facilità ogni gruppo possa ritrovarsi e possa scambiare con gli altri se poi pensiamo alle dimensioni anche dell'emarginazione che io conosco di più nella città ecco questo aspetto della della vita emarginata diventa veramente drammatico perché in un contesto povero un po' di relazioni immediate o di grande impegno sociale chi vive nell'emarginazione vive veramente abbandonato chi per una serie di circostanze non può avere più la famiglia o perché l'ha persa o perché se ne è separato chi non vive una relazione di gruppo si trova veramente solo abbandonato e oggi è sempre più frequente questa dimensione non è una dimensione delle grandi città sì ma noi non siamo Roma non è più così anche Frosinone può vivere delle emarginazioni drammatiche proprio perché chi si ritrova solo e senza un supporto familiare che è quello storico tradizionale della socialia di Frosinone veramente non ha altri interlocutori non ha altri elementi dove agganciare la sua vita ecco questo deve essere una grande responsabilità di di chi governa la città di chi deve dare una dimensione alla città deve dare una prospettiva quello di aiutare soprattutto chi è più debole chi è più emarginato per tante situazioni a volte anche per colpa sua non dobbiamo pensare che l'emarginazione sia sempre solo un fato no non è un fato a volte sono anche delle responsabilità personali perché scelte personali sbagliate non calibrate negli effetti portano tante persone a vivere ai margini ad auto escludersi anche questa dimensione c'è ecco proprio per questo il rafforzamento di un vivere sociale delle redi sociali delle redi associative serve ad aiutare chi da solo non ha gli strumenti chi da solo non ce la fa perché non riesce a trovare il bandolo della matassa ecco questa questo aspetto secondo me non è adeguatamente attenzionato dagli a responsabilità pubblica perché è come se fosse un aspetto un po' secondario roba da servizio sociale no non è roba servizio sociale è roba da vivere civile quindi vivere politico quindi il mio invito è quello di pensare di più ad aiutare chi è emarginato rafforzando il legame sociale complessivo rafforzando il centro identità di appartenenza alla città perché non basta l'intervento singolo il sussidio no quello è un momento ma se poi non c'è una vita che riparte un contesto in cui la persona si sente a suo agio e poi riprende il suo percorso quello non serve a niente quello è un piccolo palliativo e guarda questo mi aiuta molto Marco a dire una cosa quando io parlo di cultura mi riferisco anche a questo cioè alla cultura della solidarietà e non come direbbe Papa Francesco alla cultura dello scarto no io mi sento molto francescano mi piace molto questo pontefice mi ci riconosco molto e e quindi no la misericordia questa è cultura e io dico forse non basta delegare le associazioni che svolgono questo ruolo di unità del tessuto sociale la primi i primi a dover assumere questa responsabilità sono coloro che svolgono attività politica che assumono un ruolo politico e non semplicemente amministrativo o di potere e io sono convinto proprio per quello che Marco dice che insieme questa eh diciamo battaglia non violenta di solidarietà culturale di sfida che noi abbiamo lanciato la classe politica e dirigente i cittadini insieme se ci aiutano noi insieme la vinciamo la vinciamo e ecco questa chiamata un po' che fa Pierpaolo è una chiamata anche a cambiare le modalità della partecipazione politica in qualche modo la responsabilità eh il senso un po' della delega e eh la degenerazione un po' della partecipazione politica perché sembra sempre che eh dice vabbè devo andare a votare a voto una volta vabbè a chi è a quell'amico me l'ha chiesto no i motivi più diversi ognuno ha i suoi motivi per votare però eh il voto eh se diventa una delega una tantum e non diventa invece uno strumento tra i tanti della partecipazione politica perché non non dobbiamo pensare che solo il voto è partecipazione forse è quella più simbolica questa è ma se la partecipazione politica non è quotidiana nella vita della città attraverso il dibattito del confronto la ghiacchiera della piazza ma attraverso i momenti anche tipici di incontro e di confronto eh il voto diventa il momento della delega punto il voto e poi nulla e poi il buio per lunghi mesi o anni mh ognuno è chiamato dice vabbè chi è stato eletto ha il potere quindi fa il suo lavoro di amministratore i cittadini passivi in attesa che cambi qualcosa che venga qualcosa ma che non avviene e rimane questa distanza ecco questa distanza è pericolosa per il vivere civile perché non responsabilizza gli amministratori perché è una delega una tanto che c'è ogni cinque anni e quindi poi poi si vedrà vengono riedette o vengono riedetto non lo so a volte gli amministratori possono rimanere anche soli eh non so se qualche amministratore io ho sentito però qualche amministratore qualche volta che diceva alla fine uno sta solo perché eh ti trovi in mezzo a tanti problemi tante forse altri invece vogliono stare soli però questo senso di solito e di abbandono il distacco tra il corpo elettorale e gli eletti che non viene alimentato invece da un confronto continuo da una partecipazione continua ecco questo secondo me è uno degli elementi di debolezza oggi del vivere civile del vivere anche politico perché se non ci si alimenta anche della critica quotidiana anche del litigio qualche volta perché capita anche questo nella vita eh si rimane un po' asfittifi se non si produce non si dà una prospettiva non si danno delle scelte che vanno veramente incontro ai bisogni anche perché i bisogni sono così mutevoli oggi e così sfuggenti per un ritmo di vita che abbiamo perché per cui tu non puoi dire ma eh io sono stato eletto l'anno X due tre quattro anni dopo i bisogni sono quelli no i bisogni cambiano di continuo e se tu non sei sintonizzato continuamente su quello che accade nella città su quello che serve la gente e rischi di prendere lucciole per lanterne cioè rischi di andare da tutt'altra parte anche nelle migliori intenzioni io non sto parlando in questo caso delle intenzioni malevole che ci sono ma sto parlando anche di chi è ben intenzionato ma se non si tiene costantemente in contatto con il vivere civile della città rischia di andare per la strada sbagliata ecco questo secondo me deve essere un aspetto di riflessione approfondimento ma di pratica quotidiana che non basta la riflessione se non c'è la pratica quotidiana. Paolo qualche minuto per chiudere eh a te la prova. Sì eh sono perfettamente d'accordo eh la pratica quotidiana il coltivare quotidianamente potremmo dire l'amore eh significa annaffiare le proprie radici significa eh rendere comunque sempre il proprio terreno fertile e significa soprattutto hm aiutare magari chi è in difficoltà o chi ha in quel momento una situazione di svantaggio di permettergli di coltivare o aiutare chi ha bisogno di coltivare il proprio giardino affinché eh sia bello di di una bellezza che tutti possono godere e non calpestare no il giardino altrui o ehm diciamo con quella mentalità mors tua vita mea che serpeggia anche a Frosinone che non mi piace che chiude nell'egoismo ma in senso negativo io vorrei rispondere insieme all'associazione Frosinone al centro all'egoismo con l'amor proprio l'amor proprio significa rispettare l'altro ma significa rispettare il nostro territorio a livello di ehm anche eh ambientale ecologico e questa è cultura il evitare di inquinare di partecipare a l'aggravamento dell'inquinamento dell'atmosfera questa è cultura quindi la sfida culturale riguarda i quartieri come diceva Marco riguarda una città come Frosinone spezzettata che va riunita anche nelle sue articolazioni urbanistiche questa è cultura tutto questo ritengo che possa essere la sfida per il futuro il che si può portare avanti se si ritrova il senso e il significato originario alto e nobile della politica se non si fa questo si va verso il baratro perché la realtà a livello sociale economico eh individuale sembra aver preso una brutta piega e possiamo risollevarci soltanto se siamo in grado di portare avanti questa pratica l'opera che noi svolgiamo quotidianamente l'opera può essere anche l'ascolto di una persona che ha bisogno di dire qualcosa può essere anche un'iniziativa eh diciamo che prende ehm il sindaco di faccio un esempio ascoltare i cittadini una volta a settimana eh lasciare la porta aperta del proprio gabinetto ufficio di sindaco e incontrare i cittadini ascoltarli sentire che cosa hanno da dire ascoltare i loro problemi prendere appunti eh non magari perché segnalati dall'amico ti mando questo perché questo mio amico io ti ho votato no per sentire che cosa vive la gente che cosa mh sente in questo momento chiunque io mi rivolgo anche alla borghesia illuminata se c'è una borghesia illuminata a Frosinone deve riacquistare il proprio ruolo e riprendere ad attivarsi e ci sono ci sono perché molte persone lo fanno già magari non è pubblicizzata come come attività ma tanti nella borghesia illuminata che sottotraccia insieme ad alcune associazioni mantengono ancora vivo un terreno coltivando praticando eh quest'amore che può essere anche amor proprio ma non diventa mai egoismo e l'associazione culturale Frosinone al centro vuole essere il luogo della pratica quindi il luogo dell'amore il luogo della politica in una parola cultura cultura significa imparare a vivere insieme e a camminare insieme e a realizzare insieme il futuro che immaginiamo che sogniamo che speriamo per noi per i figli e i nipoti. Perfetto con queste parole chiudiamo qui questa puntata di creare il futuro Frosinone al centro ringraziamo ovviamente per Paolo Segneri presidente dell'associazione Frosinone al centro regista e scrittore e Marco Toti dirigente del ministero della giustizia ma anche direttore della Caritas di Orcesana di Frosinone componente e della comitato scientifico dell'associazione Frosinone al centro e iscritto a questa associazione. Abbiamo parlato eh di Frosinone e di progetti chiudiamo come di consueto con forza Frosinone grazie a entrambi. Oh ciao grazie Gianni ciao un saluto a tutti grazie Marco Grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie Grazie.